Io ovviamente ho iniziato oggi, è stato tutto un po' veloce ma sono molto orgogliosa e molto contenta di potermi occupare di temi che mi sono cari da sempre. Devo ringraziare in particolar modo Lorenzo Fontana che è stato un ottimo ministro che ha intrapreso strade importanti e dei passi fondamentali nei temi a garanzia, tutela delle persone più fragili. Per la disabilità che mi sta particolarmente a cuore perché come qualcuno magari ha potuto leggere è un po' la mia storia di vita dalle esperienze professionali alle esperienze politiche e oggi è un grande onore poter gestire questi temi, incontrare le famiglie, incontrare le associazioni e poter andare anche sul posto a verificare quali sono i bisogni, le necessità e anche insomma quali sono invece le politiche virtuose che si sviluppano anche nei nostri territori. Ovviamente c'è il tema della famiglia fondamentale perché abbiamo bisogno di crescita, di tutele, di sostegno all'occupazione, al lavoro, di misure che possano garantire un sostentamento degno ai nuclei familiari in difficoltà e poi ovviamente le politiche antidroga. Un tema importante è quello delle dipendenze che riguarda i minori, che riguarda i minori, riguarda le scuole e riguarda anche questo le famiglie. Quindi sicuramente sarà un impegno tra i tanti da portare avanti. Ovviamente le mie competenze e le mie esperienze ruotano molto intorno alla disabilità e abbiamo pensato di definire diversamente il titolo delle mie deleghe e quindi si chiamerà Ministero delle Disabilità e della Famiglia. Io concludo qui perché abbiamo detto che volevamo dare solo uno spaccato, una sintesi di quello che è la mia presentazione e passo la parola.